Beh, ragazzi, io voglio veramente ringraziarvi, ringraziarvi tanto di cuore perché ho guardato un attimo i numeri degli ultimi video pubblicati appunto inerenti a Juventus Inter 2-0 e ci sono dei numeri clamorosi e quindi vi ringrazio per le visualizzazioni, i commenti, i like che state lasciando a tutti questi video, spero che anche questo video possa essere particolarmente apprezzato perché oggi andiamo a concluderla, no? L'analisi di questa partita, poi ce la mettiamo via e ci prepariamo già per la partita col Verona e iniziamo a parlare anche un po' dell'Europa League perché c'è stato il sorteggio della UEFA, quindi sappiamo un po' gli accoppiamenti per la Champions che purtroppo non ci vedrà protagonisti e il nostro avversario invece per gli spareggi di Europa League, una situazione nella quale non mi sarei voluto trovare purtroppo, siamo in questa situazione qua, non possiamo farci niente. Allora, analisi Juventus Inter ma prima di tutto l'urna ci ha dato il Nantes, squadra francese che in questo momento è sedicesima nel campionato appunto della Ligue 1, una squadra che in questo momento mi pare di capire non essere in perfetta forma, però poi quando ci sarà la possibilità di affrontare la post mondiale potrebbe riservarci delle sorprese, noi non dobbiamo dimenticarci chi siamo, da dove veniamo, qual è stato il nostro percorso, perché siamo in Europa League, non dobbiamo sottovalutare nessuno, però voglio domani provare a portarvi un contenuto in cui andiamo ad analizzare un pochino quella che è la squadra che abbiamo tirato su e lo faremo tramite i dati di Soccerment che ha ovviamente come sempre prestato questo match report, se volete andare sulla piattaforma di Soccerment vi lascio comunque come sempre i link qui sotto in descrizione e su Soccerment andrò a documentarmi anche per quanto riguarda il Nantes, andrò a prendere tutti i dati della Ligue 1 che stanno giocando in questo momento per cercare di capire che squadra è e se volete anche fare l'ultimo viaggio su Juventus Inter o prepararvi per le ultime due, quindi a Las Verona o Lazio, link in descrizione anche per acquistare XSeed, io stasera ho la partita di campionato con gli amatori, utilizzerò appunto il parastinco intelligente. E allora, tiri in porta Juventus Inter, una gara abbastanza equilibrata, io dico la verità, perché è vero che guardando i tiri 14-8, però ormai l'abbiamo fatto troppe volte questo video, l'analisi delle partite sappiamo come funzionano, no? Non serve guardare quel numerino e basta, come non serve guardare solo il possesso palla, tante persone solitamente fanno questo errore quando vanno ad analizzare una partita di calcio, vietato, errato, no, 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 un errore grandissimo. Cerchiamo di guardare anche le occasioni che ci sono state, l'Inter ne ha avute tre macro, la Juve ne ha avute tre macro, noi siamo stati semplicemente più fortunati e cinici e questa cosa ci ha portato alla vittoria, perché la partita di ieri a livello di XG, meglio l'Inter, addirittura non di tanto, 1.57 contro 1.48, ma la Juve ne ha fatti due, l'Inter zero, quindi ieri sera l'Inter è mancata quella freddezza sottoporta che l'aveva aiutata magari in tutte le altre gare fino a questo momento, quindi non dobbiamo assolutamente illuderci per questa partita, perché secondo me è stata una partita abbastanza brutta nel complesso per essere una di cartello della Serie A che esplosa un po' nel secondo tempo, perché la Juve ha deciso di abbandonare un indice di orizzontalità quasi pari al 100% ed andare un po' più in verticale, in ripartenza, e andremo ad analizzare perfettamente quello che è stato, ma è difficile parlare della partita di per sé, infatti ieri sera qualcuno diceva, eh ma non puoi dividere la partita a primo o secondo tempo, devi godere, certo devi godere, però poi nell'analisi non possiamo assolutamente raccontare una partita unica, perché è stata dalle due facce, l'Inter pericolosa nel primo, la Juve nel secondo, tra l'altro, rabbio su quel disimpegno con la super parata di Scesni, rende l'Inter pericolosa anche nel secondo tempo, quindi Juventus che riesce a concretizzare e riesce a vincere, però, attenzione, come dicevo ieri sera, questa è la normalità, vincere un big match e non siamo completamente guariti. Dati, Juventus-Inter, discreto pressing bianconero, devo dire la verità, nel primo tempo possesso palla sterile, che veramente non crea occasioni, nel secondo tempo invece meno, meno pallone, tenetelo voi, fate una cosa, a noi non interessa, tenetelo voi, noi andiamo più in verticale, e questo è il modo che mi piace di giocare a pallone, non me ne frega niente di avere il pallone se poi ci facciamo 20 retropassaggi su Scesni e ce la passiamo sui tre centrali, più i due esterni, non me frega niente, date il pallone a quegli altri, ma quando c'è da andare in verticale, c'è da andare in ripartenza, c'è da andare a correre verso la porta avversaria, facciamolo. Secondo me è il modo più divertente di giocare a calcio, poi questa è una cosa puramente soggettiva, ma a me, quando la squadra va in verticale, piace sempre, quindi difficilissimo, anzi impossibile analizzare questa partita in un blocco unico, e secondo me proprio su questo lo vede di migliorare, perché abbiamo vinto, sì, benissimo, ci portiamo a casa i tre punti, ci portiamo a casa la gioia, ma anche la consapevolezza che questa Juventus ancora non è guarita al 100%, poi l'Inter è un avversario sicuramente di un certo livello, come magari lo era stato il PSG, un livello diverso rispetto a quello del Lecce, quindi ci portiamo a casa con ancora più volontà, ancora più voglia, ancora più felicità questi tre punti, ma non dobbiamo sederci sugli allori, non dobbiamo addormentarci. Finalizzazione, questo è il grafico, lo sapete ormai, che mi piace più di tutti, infatti il dato più interessante è quello del cumulative x goal, questo grafico veramente ci dà la fotografia perfetta di quello che è stato l'andamento della partita, Inter pericolosa fino al 45esimo, più quella palla persa da Rabiot e quella super parata di Cesni, poi esce la Juve e riusciamo a rinsaccare due volte alle spalle di un'ana con anche un'occasione clamorosa in più che non riusciamo a concretizzare, poi la andiamo a vedere comunque. E quindi fine primo tempo contro finale di Juve e Inter, guardate lo 0-0 di fine primo tempo, intanto abbiamo invertito le posizioni poi nel finale perché noi abbiamo preso tre punti e abbiamo spedito l'Inter al settimo posto, però noi quattro tiri contro i sette dell'Inter, expected goals, Inter 1.8, Inter che secondo me meritava almeno un gol nel primo tempo, poi è ovvio che se non la butti dentro non te lo meriti, se lo meritava sulla carta, noi no perché avevamo uno 0-35, nel secondo tempo decidiamo di cambiare completamente ma si era già visto dai 20 secondi iniziali di primo tempo da come eravamo tornati in campo e infatti ribaltiamo poi il pronostico con l'Inter che qualcosina in più fa, però come potete vedere rispetto al primo tempo scende tanto, veramente tanto, anche l'Inter. Forse il risultato più giusto poteva essere un pari? Probabilmente sì, per quello che ci dicono i dati, poi il calcio è uno sport che sui dati si basa, però poi se la pala la butti dentro e non fai gol, ci può ancora stare qui a dire perché poi è un discorso anche di singoli, di Scesni che fa la farata, di Fagioli che fa il gol, di Danfries che lo sbaglia, è logico, lo abbiamo visto mille volte, la partita la puoi preparare in un certo modo, poi magari ci sono i giocatori che fanno la differenza in positivo o in negativo. Modulo, allora è un 3-5-2 abbastanza evidente, però c'è un qualche sbavatura di 3-4-2-1 che è un pezzo che vi dico, secondo me, è l'abito ideale per questi 11 qui, non dico in generale la rosa della Juve, ma in questo momento qui se c'è solo Milik e hai sia Fagioli che Miretti, io metto Fagioli e Miretti dietro Milik, infatti guardate Fagioli quanto sale di più rispetto a Rabiolo Catelli, secondo me Rabiolo Catelli sono anche molto bravi a giocare una maniera a due, Fagioli infatti ha dei gol nelle gambe e dovrebbe indubbiamente giocare qualche metro più avanti. Mi dispiace tanto per Milik, guardate lì il 14-50 piccolo striminzito quasi invisibile, molto fuori dal gioco, ma di questo abbiamo già parlato delle pagelle che vi lascio qui sopra nelle schede. Analizziamo un attimino le azioni che hanno portato ai gol, perché bene o male di resto non c'è stato tanto, se non il palo di Kostic che voglio comunque analizzare. Quindi le tre macro occasioni create dalla Juventus, concentriamoci su quello che è stato il nostro gioco in attacco, ma per farlo dobbiamo parlare del gioco in difesa. Eh sì, perché angolo per l'Inter, ok? Messo fuori bene sul primo palo da quadrado, Kostic guardate lui l'ho evidenziato, resiste di fisico a Barella, ma io lo dico, è la terza volta probabilmente che lo dico nei video, continua a non capire perché non l'abbia fermato con un fallo da cartellino giallo, Kostic ci riesce a girarsi e a uscire via in una maniera incredibile, però Kostic ci serve questo. Campo davanti per sgruppare fino al fondo, non è un esterno a 4-3-3, non è un esterno a 4-4-2, è un esterno a difesa a 3 che possa essere 3-5-2 o 3-4-2-1, che per quanto mi riguarda è l'abito più idoneo per questa Juve perché lì davanti abbiamo dei giocatori che devono avere la possibilità di puntare l'uomo come Di Maria, come Chiesa, se vogliamo come Fagioli, come Miretti per inserirsi, abbiamo lo stesso Sule che quando verrà chiamato in casa può fare questo, quindi se penso alla Juve ideale con la difesa a 3, nel prossimo futuro me la immagino più con due mezze punte o due esterni se vogliamo, più una punta piuttosto che tra centrocampisti, ma di questo poi parleremo più avanti e infatti noi da un contropiede, andiamo avanti nell'azione, guardate qui come arriviamo, brava la Juve, brava la Juve ad accompagnare con più uomini, bravi ragazzi, questo è proprio, cioè quando io mi arrabbio, quando io mi arrabbio, non mi arrabbio perché voglio arrabbiarmi, mi arrabbio perché vedo le cose che non mi vanno a genio, perché poi quando andiamo ad analizzare le cose che funzionano in questa Juve sono sempre le stesse costanti, una squadra che va in avanti, una squadra che si stacca, una squadra che decide di lasciare lì il fatto di non prendere gol, perché questa squadra non lo può fare, perché ha un'impronta più offensiva rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso, è la squadra con la miglior difesa del campionato perché tante volte abbiamo voluto castrare questa nostra voglia di andare in avanti, ma noi siamo più bravi, più belli per forza di cose, ma più bravi, più bravi, più concreti, più efficaci quando andiamo ad attaccare la porta agli avversari, e qui guardate questa ripartenza con quanti saliamo, con miliche e fagioli lontani, eppure nonostante tutto questi qua sono quelli un po' più liberi, fa gol a rabbio, che è da solo in mezzo all'area l'Inter infatti qua, un po' così nella marcatura, rabbio fa addirittura gol di destro, come dicevamo prima, ci sono le giocate dei singoli, c'è Kostic che va via a barella e c'è rabbio che le impatta bene col piede debole, fa un gol capolavoro, la Juve questo è forte, in questo la Juve è brava, peccato che lo facciamo raramente, noi siamo bravi sullo sviluppo esterno e nel portare tanti uomini in area, perché sennò difficilmente riusciamo a buttare la palla in rete, riusciamo a ribadire in rete, perché lo facciamo così poco? Punto di domanda, non lo so, una questione fisica, mentale, all'inizio mi sembrava una questione mentale, perché non lo volevamo mai fare, adesso mi viene da dire che se il primo tempo lo facciamo a piccolo trotto e il secondo lo giochiamo così è perché probabilmente 90 minuti di tempo nelle gambe, di autonomia nelle gambe non ce li abbiamo, non lo so, probabilmente è cambiata anche la lettura che vi facevo rispetto all'inizio, per essere veramente una squadra forte però dobbiamo riuscire a creare questi presupposti per più di 40 minuti, per più di mezz'ora, 35, quelli che sono. Paolo di Kostic, allora io come ben sapete sono un amante dei gesti tecnici individuali e noi da qui, da questa situazione qui, stavamo per fare il 2-0, guardate quanti metri sarà oltre la metà campo, 10? Probabilmente, una decina di metri oltre la metà campo, Kostic alza la mano, guardami, sono qui, sono libero, mi vedi? Danfrey se non c'è, dammela. Fagioli sventagliata, esagero ragazzi, voglio esagerare, che non significa che è forte come o che mi ricorda quel giocatore, ma questa sventagliata è pirlo, cioè questa apertura qui è da pirlo, elegante, semplice, pulita, precisa, il 17 la stoppa e lascia per attire una cannonata, un'ana con la punta dei guanti la butta sul palo e è peccatissimo perché qua abbia riscatto l'Eurogole o non ci vuole niente, questa è una situazione che non si costruisce con schemi quant'altro, questa è soltanto visione di gioco e piede del regista o del centrocampista, che ribadisco, secondo me è un giocatore molto più offensivo rispetto a un centrocampista, quindi sicuramente non regista ma mezzala di possesso, di costruzione e di Kostic, che ieri sera veramente era fatato, a parte quel tiraccio nel primo tempo, intesa, intesa tra questi due e la vedremo in questa occasione qua perché ancora una volta ve lo voglio dire, per analizzare il nostro punto offensivo dobbiamo concentrarci sulla difesa e c'è un motivo se Bonucci ha perso i gradi da titolare di questa squadra, c'è un motivo perché noi facciamo il 2-0 da qui, e lo so sta attaccando l'Inter, me ne sono accorto, è l'84esimo minuto di gioco, palla dentro per Brozovic, guardate Bremer, sta monitorando come, avete presente il gatto quando sta per attaccare, benissimo, uguale, Bremer guarda quella palla lì, intervento della Madonna, la Juve riesce a ripartire centralmente con Rabiot che è uno stantuffo, fa la spola al centrocampo, Rabiot veramente una crescita impressionante, e infatti ribadisco, se mi arrabbiavo e continuo ad arrabbiarmi se vedo che la Juve certe cose non le fa per tutta la partita, è perché quando noi non vogliamo saperne di scoprire il fianco e di ripartire, diventiamo un'agonia, diventiamo un'agonia, perché veramente decidiamo di non fare, invece quando decidiamo di, ragazzi, il gol si può prendere, però se poi siamo bravi a recuperare palla e andare in avanti anche con più giocatori, allora facciamo male, e infatti questa azione offensiva dell'Inter, quindi d'azione difensiva nostra, si trasforma in azione offensiva con cui andiamo a insaccare il 2-0, perché poi nasce una bellissima situazione in contropiede, qua secondo me è stato bravo Allegri dopo a leggerla, ma era abbastanza facile secondo me, nel senso quando Heidi Maria è Chiesa in panchina e la partita è ancora abbastanza bloccata, le butti dentro sai che nello spazio possano dare del filo alla torcia agli avversari e ripartenza, poi avevamo sbloccato la gara, quindi l'Inter era in avanti, aveva tre punte, ha dovuto lasciare stare un po' di equilibrio per forza di cose, Chiesa che sta andando esattamente vicino a Kostic, sulla sinistra, si accorge che il compagno accompagnato, scusate, intelligentemente che cosa fa? Da sinistra, cambio di direzione, che con un ginocchio appena operato, appena tornato, ho sempre un po' di ansia, vado nello spazio, a destra c'è una pratteria e quindi che cosa fa l'ultimo uomo? Devo seguirlo, però seguendo Chiesa, allora ecco che Di Maria intelligentemente vede il corridoio tra due uomini, un po' come era stata la palla per Vlaovic col Maccabi e Di Maria il giocatore più verticale che abbiamo in assoluto perché vede queste giocate e questi tagli, serve il corridoio per Kostic che poi è libero di portarsela sul fondo, di metterla, fortunati perché la palla passa in mezzo alle gambe di non mi ricordo chi, dei giocatori dell'Inter forse di, non lo so, non mi ricordo, e in qualche modo poi fa già l'istoppa, tira, becca Gossens, deviazione decisiva, però troviamo il gol del 2-0 e quindi l'analisi della partita è stata questa, ragazzi, una partita secondo me da analizzare difficile nel complessivo perché tante volte diciamo partita a senso unico, partita meritata, no, secondo me questa non è una partita meritata, lo è diventata perché abbiamo dimostrato spirito, carattere e abbiamo avuto anche una buona dosi di fortuna, secondo me, nel complesso perché se l'Inter va sull'1-0 nel primo tempo o forse addirittura sul 2-0 non so poi questa partita come va, però il calcio ci insegna che l'ho sbagliato e l'ho subito, è una delle leggi più vecchie, il titolo della live reaction, anche questa ve la lascio qui sopra nelle schede e quindi penso che alla fine della fiera il fatto che la Juventus abbia vinto sia comunque giusto, non meritatissimo, però giusto, perché se gli altri non fanno gol e tu lo fai e avete lo stesso numero il palle gol, ti meriti di vincere la partita. Per dare continuità, attenzione, che ce l'è la Sverona che è un avversario decisamente più facile rispetto a questa Inter e non voglio rischiare che possa diventare un ennesimo rimpianto, anche perché poi c'è la lastra di Sarri che era vinto il derby, che sta continuando a macinare punti. E insomma, non è da sottovalutare. Grazie mille a Soccerment per i dati, grazie mille a Dazon per le immagini, io ancora una volta vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, di passare qui sopra nelle schede dove ci sono anche tutte le altre schede appunto dei video che ho fatto uscire e domani ci troviamo per un'analisi della nostra avversaria Europa League. Un mi piace a questo video ragazzi e buona serata.